E eccoci qua a brevissimo video, grazie per la segnalazione, l'avevo notato anche io, grazie, grazie. Allora, il 90 lascia il segno, il 90 lascia il segno, il 90 di Napoli in quinta, o 5,50 su Napoli, o 5,50 su Bari. Quindi, stasera, 1, 2, 3, esce proprio il 5 sulla posizione dove era il 90. Guardate che questa tecnica è fenomenale, è arrivato un numero solo, ma è arrivato in pochissimi colpi, quindi vedete che non è vero che arriva in ritardo l'Ambate. Quindi, un'altra conferma arriva di qua, dal 90 di Venezia, rispecchiata sulla sua diametrale Milano, di nuovo, o 5,50 qui, o 5,50 Milano. Guardate l'altro ieri cosa è successo, primo colpo 5 con il 90, ricordate, questa sera, 50 avvertibile, sempre sulla ruota di Milano. Quindi, questa tecnica si va a confermare ottima, non buona, ottima. Va bene ragazzi, questo è quanto, ci risentiamo domani, buonanotte.